Ora che la confraternita è arrivata, mi sembra arrivato il buon momento per portare allo splendore anche un'altra fazione. Ma prima ho bisogno di un vestito appropriato. Vediamo come mi sta un vestito da cacciatore. E vediamo cosa mi toglie del vestito precedente. Mi ha tolto quasi tutto. Che splendore che sono! Anche se mi ha azzerato le tette. Il mio peggior incubo si è avverato, sono diventata piatta. Ha il suo fascino, non voglio negarlo. Proviamo a vedere come sta su Piper. Ti rende un fascino che... Non voglio negare, ti rende unica. Però veramente ha azzerato il seno. Mi sento molto più completo quando sono vestito così. Mi sono rimesso anche la collana. Il problema è che se mi metto la giacca, la collana va sotto la giacca. Eh vabbè, non importa. Presto ne è arrivato il momento di riportare i Minutemen al loro splendore. E adesso? Ci siamo allargati così tanto che abbiamo difficoltà a comunicare con tutti i nostri insediamenti. È un bel problema. Eh sì. Io ho la soluzione. È arrivato il momento di riprenderci il castello. Il castello. Era il quartiere generale dei Minutemen prima ancora che mi unissi all'organizzazione. Perfetto. È ben protetto, situato in una posizione centrale, ma soprattutto ha un potente trasmettitore radio che possiamo usare per raggiungere tutto il Commonwealth. E avremo più gente dalla nostra parte. È esattamente ciò che ci serve. È esattamente ciò che ci serve. Sapevo che avresti apprezzato... Ovviamente, non vedevo l'ora. Dovrei radunare un contingente d'assalto vicino al castello? Sì, chiamali. Sì, d'accordo. Faremo un sopralluogo e ci troveremo fuori dal castello. Ci vediamo lì. Perfetto, ci vediamo là, Preston. Vai. Io, intanto, penso che a questo giro userò questo. Ah, non vedo l'ora di potenziarlo. Il problema è che per potenziarlo al massimo mi serve artigliere pesante. Eh, vabbè. Il castello si trova qui, vicino alla fabbrica del General Atomics. Una delle mie missioni non chiedeva di andarci? Eccola qua, esplora la fabbrica General Atomics. Dovrei portarci Ada. La prossima volta. Ehi. Guai in vista! Ecco qua come usare in modo intelligente il lanciafiamme. Oh là, si è sciolto. Dov'è? Ce n'è ancora uno. Come ho fatto a mancarlo? Non lo vedo. Perché è tutto troppo piccolo? Ecco fatto. Il lanciafiamme infuso al plasma è la decisione migliore che potevo fare. Non solo faccio danno a energia per il fuoco, ma faccio anche danno a energia dal plasma. Con una roba del genere sciogliere i nemici non è più un modo di dire. Però mi sembra di ricordare che in questa zona ci fosse un deadclaw. Forse mi sbaglio. Non mi sembra. Sono abbastanza sicuro che fosse qui il deadclaw. Oh, ma guarda, un po' di nemici da sciogliere. Mi diverto sempre un sacco con il lanciafiamme io. Mamma mia. Immaginavi che sarebbe finita così? Che io che scioglievo tutti con un lanciafiamme, no? Non l'avrei mai immaginato. Ed eccolo lì. Il castello. Tutto nel suo magnifico splendore distrutto. Ehi là, Minuteman. Chi è? Sono arrivati i vampiri. Li ho sentiti, eh? Eccoli qua. Aspettate che... Li ammazzo tutti. Oh no, colpito gli Atom Guard. Non volevo, perdono. Però non posso fermarmi. Ormai mi sta attaccando. A sto punto non ha senso fermarsi, no? Ehi là, Preston. Preston, qui, 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 qui. Qui, Preston. Torna dentro. Stupido di Milurk. Tornatevene a casa. Dicevamo, Preston. Ehi là, Minuteman. Sono tutti qui, generale. Ecco. Wow. Fa impressione, eh? Il suo vero nome è Fort Independence. Ma per i Minuteman è sempre stato il castello. Ah beh. Capisci perché ho insistito così tanto per riconquistarlo. Beh, sì. È un castello vero e proprio. Quelle mura sicuramente avrebbero bisogno di un restauro. Forse. In effetti queste mura avrebbero bisogno di un bel restauro. Ammetto che ha visto giorni migliori. Ma i Minuteman non hanno mai evitato il duro lavoro. Eh, mica troppo, eh. Non mi sembra che l'abbiate mai aggiustato. Dovremmo incontrare la maggior parte della resistenza. Le mura su questo lato sono le più esposte. Ma se giriamo a sud, potremmo raggiungere anche il cancello principale. Eh, anche il cancello? Entriamo e facciamo fuori quelle aragoste. No. Se ci dividiamo, possiamo prenderli sui fianchi da entrambi i lati. Sarà un gioco da ragazzi. Perché non li facciamo a mangiare verso di noi? Creiamo una linea di fuoco su questo lato e tu li attiri allo scoperto. Allora, generale, che ne pensi? Li attirerò io, non vi preoccupate. Create una linea di fuoco e io li attirerò allo scoperto. Non pensare di entrare lì senza di me. Da, ma è tranquillo. Ma che sta succedendo fuori da sto posto? Certo. Voi mettetevi in posizione. Siete tutti in posizione? Ah beh. Di sicuro non avevano torto. Quindi, siete pronti? Ci penso io. Non preoccupatevi. Il castello ora. E' in ottime mani. Forza, venite fuori. Sto aspettando. Ho un lanciafiamme e questa sera ho voglia di aragosta. Eh, hai voglia. Guarda qua che macello. Devo distruggere anche le uova prima che si riproducano. Ce n'è ancora uno. Eccolo lì. Aragosta al forno. Dov'è? Uccidilo. Tutto bene. Ci ho pensato io. Merda. Hanno fatto il nido. Tranquillo, ho già fatto io. Scherzavo, ce n'era ancora uno intero. Voi aspettate qui nel cortile e vi sbarazzate di tutte le uova che trovate. Il generale e io ripuliremo le mura. All'opera, generale. Non mi aspetto un'accoglienza calorosa. Ah certo, il lavoro più duro aspetta sempre a me. Ecco fatto, una è andata. Anche questa non c'è più. Ma perché no? Distruggiamo anche queste. Queste non mi piacciono per nulla. Ma guarda, uno era nascosto addirittura. Bravi ragazzi. Sono anche aumentato di livello. Questo vuol dire artiglieria pesante. Vieni a me. Al prossimo livello finalmente potremo aumentare il nostro lanciafiamme. Non vedo l'ora. Guarda, un lanciamissili. E quello che cos'è? Cos'è? Che sta succedendo? A cosa state sparando voi? Urrà per il Minuteman! Aspetta, parlare che ci sono ancora uova. Oh Cristo! Godzilla! Tranquilli, ci penso io! Oh la madonna! Che facciata! L'ho preso? Non lo so. Non credo. Benissimo! I lanciamissili funzionano sempre. Sì! Aspetta che ne arriva uno. Occhio! Ecco fatto. No, no, solo a noi, come sempre. Vediamo cosa aveva. Il generale e io andremo a dare un'occhiata alla radio per vedere in che condizioni è. Dove sei Preston? Preston, dove sei? Scusami, non ti vedo. Ah, eccoti. Dai, guardiamolo allora. Beh, poteva andare peggio. Uh, una rivista. Sì! Le armi balistiche infliggono 5% di danni critici. Benissimo. Io vado a controllare cos'altro è rimasto in giro. Va bene Preston, ci penso io. È facile, manca l'elettricità Preston. Non è così difficile. Allora, ripuliamo. Prima questo posto. Oh, ecco fatto. Tutto bello pulito. Che è successo? Ah, ce n'era ancora uno nascosto, vedo. Dove sono i piccoli? Ecco fatto. Ne manca uno. Non lo vedo. Dov'è? Scusami. Ah, ecco. Bravi che ci avete pensato voi. Dicevamo. Beh, sono contento che i lavori per il cablaggio elettrico le abbiano già fatti loro. Il punto è che manca la materia prima, manca l'elettricità. Mmm, dove potrei mettere qualche pannello solare? Ecco, uno lo mettiamo proprio qua. Li colleghiamo. Ecco, fatto. Tu vai qua. E ora funziona. Preston, dove sei? Eccoti. Ora funziona tutto. Hey. Wow. Ce l'abbiamo fatta. Per i Minutemen sembrava la fine, ma ora le cose sembrano rimettersi a posto. Eh, lo so. Finalmente, direi. Eh. Ora dobbiamo terminare quello che abbiamo iniziato. Riunire tutto il Commonwealth e stavolta fare in modo che duri. Rimettiamoci al lavoro. Con Radio Freedom attiva possiamo inviarti gli avvisi ovunque ti trovi, in qualunque momento. Ah, che bello. Finalmente. Non vedevo l'ora. Questo mi fa aiutare che c'è un'altra zona calda da controllare. Ah, porca troia. Preston. Dobbiamo far vedere alle persone che possono fidarsi dei Minutemen. Sì, ho capito. Dai, ma t'ho appena riconquistato sto posto e già mi appioppio in altro lavoro. Ma sei proprio uno stronzo. Ora tutto il Commonwealth saprà che i Minutemen sono tornati. Assolutamente. Ma tu perché sei bagnata? Quello fu il giorno in cui il Commonwealth seppe che i Minutemen erano tornati. Certo. Ora che hanno ripulito tutto. È arrivato il momento di sistemare queste mura. È una cosa che ho sempre odiato di questo castello, il non poterle sistemare. Ora fortunatamente possiamo farlo. Appoggiamo questo dove capita. Ora la mod è attivata. Mettiamo i pezzi che mancano. Ecco qua. Oh, finalmente il castello ha di nuovo il muro. Quanto sono contento. Mentre qui possiamo scegliere se mettere o un muro chiuso oppure un muro con dentro la porta. So che non si vede ma eccola qua. Eccola lì la porta. Il punto è cosa c'è da questo lato? In realtà nulla di interessante ma penso che gliela metterò la porta. Ecco, fatto. Oh, perfetto. Ora il castello ha un'entrata vera e propria. Anche se effettivamente da questo lato forse... Meh, potrei anche chiuderlo. Piper? Piper? Ehi, ehi. Tutte ste problematiche. Venite qua voi due. Nessun tipo di clipping. Nessun tipo di problema. A parte queste macerie qua che non si possono togliere. Però guarda che bello finalmente. Tutto quanto chiuso. Tutto quanto chiuso e con l'erba sopra. Come piace a me. Rimane solo un ultimo problema da risolvere qui. Dobbiamo mandare qualcuno da qualche insediamento a qua che ci faccia da carovaniere. Ma guarda un po'. Qualcuno è stato così folle da attaccare l'insediamento più sicuro di tutto quanto il Commonwealth. Oh, dei gunner. Siete stati molto stupidi ad attaccare. Non lo sapete che questo è il mio insediamento? Vai Codsward, uccidilo. Bravo Codsward. Spero che non abbiano distrutto nulla. Chi è che sta ancora sparando? Perfetto. Ora il castello ha anche lui una linea di rifornimento. E ora che abbiamo una linea di rifornimento possiamo sistemare questo posto. Ecco a te dei pannelli solari aggiuntivi. E finalmente possiamo ridare energia a tutto il castello. Tutto illuminato ora. Il problema è che servono dei letti. Toff. Contenti ora? Assisi. Allora. Allora. Slements. Se tu. Allora. Allora. Grazie a tutti.